A San Pietro al Tanagro ieri mattina la sesta edizione della Gran Fondo del Tanagro Memoria al Pasquale a Baccapane e Franca Priore della ciclotin Tanagro. Due i percorsi lungo e medio che in questa edizione hanno interessato solo la provincia di Salerno. Sono stati toccati i vari comuni e località a seconda dell'itinerario scelto, quindi Sant'Arsenio, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana, Sassano, Teggiano, Pertosa, Sauletta Caggiano. Siamo al sesto anno di questa bella manifestazione, anche quest'anno ci confermiamo con oltre 700 partenti. Che dire, come tutti gli anni, anche quest'anno una novità, il percorso cambia, tocca dei nuovi punti del nostro territorio con le grotte di Pertosa e quindi ci spostiamo dall'altro lato del vallo. Ci sono dei tratti impegnativi, una discesa molto ripida che si trova nei pressi delle grotte di Pertosa, una salita abbastanza impegnativa nell'ultima parte, quindi che riguarda il tracciato lungo. Come tutti gli anni l'arrivo sarà ai parchi del Molini, il percorso corto va direttamente all'arrivo e lungo invece prosegue poi per per le grotte di Pertosa. A vincere la Gran Fondo di 126 chilometri per gli uomini Michele Laddomada della Bikemania Puglia, per le donne Maria Parisi del velocifero Basilicata, la Medio Fondo di 85 chilometri invece se l'è aggiudicata per gli uomini Mattia Barretta della Luxor Campania e Caterina Bello della Pedale Elettrico Puglia. Tutto perfetto, anche quest'anno il successo era garantito dalla sinergia tra enti e istituzioni locali che sta dietro alla manifestazione dalle grandi potenzialità sia di carattere sportivo che turistico. Con la ciclo team Tanagro hanno collaborato attivamente la Proloco, preseduta da Francesco Cardiello, e l'amministrazione comunale retta dal sindaco Domenico 40. San Pietro al Tanagro continua a stare sotto i riflettori nazionali per l'evento che ad ogni edizione chiama nel Vallo di Diano centinaia di persone da tutta Italia, tra partecipanti e accompagnatori, atleti e semplici appassionati di ciclismo. Questa sesta edizione è stata caratterizzata da un momento emozionante per il ciclismo locale. Ad Angelo Coiro, presidente onorario della ciclo team Tanagro e già consigliere della Federazione Ciclistica Italiana sul finire degli anni 90, è stata riconosciuta all'onorificenza federale d'oro al merito del ciclismo. Per l'occasione c'erano ieri mattina a San Pietro al Tanagro Raffaele Tirone della Commissione Benemerenze della Federazione Ciclistica Italiana e Giuseppe Cutolo, presidente della Federazione Ciclistica Italiana Campania. Indubbiamente a livello nazionale, 720 iscritti, quasi tutti quanti partenti, una bella giornata non molto calda, un percorso tecnico e mi auguro che sia una giornata di sport, tutti quanti possano divertirsi indipendentemente dalla competizione. Sono qui stamattina come presidente regionale, non per dovere ma è un piacere esserci anche perché è un momento importante per la famiglia Coiro che è l'eccellenza in questa parte del Salernitano perché stamattina verrà premiato Angelo Coirico, il papà di Francesco per la sua vita dedicata allo sport. La federazione gli ha dato un riconoscimento che decisamente è importante e sono contentissimo di poterglielo consegnare. In più anche un ricordo perché nel 1969 io ho vinto una gara da direttante con un vantaggio bellissimo, passo della sentinella, ecco mi piace ricordarlo perché poi è proprio questo che ti tiene sempre praticamente in vita sportivamente parlando perché queste esperienze e queste emozioni possano continuare.